Intrinsico dell'oggetto Chiaro, ma in base a quanto hai desiderato Esatto Partendo da questa premessa vai sul ponticello Per esempio, quanto gli facciamo pagare questa foto che gli faccio? Scusate ragazzi, fate passare Fai passare Io ho la sensazione che non si vede una minchia con queste telecamere Non so O forse è lo schermetto che è un po' Lofi lofi